Buon pomeriggio a tutti amici di YouTube, tifosi rossoneri e rivali, ci avviciniamo a questa serata molto importante, una partita fondamentale per i nostri ragazzi per cercare a tutti i costi di fare risultato pieno, portare a casa tre punti fondamentali per continuare a mantenere il nostro secondo posto e saldarlo sempre di più, ieri ha vinto anche la Lazio, tre punti pesanti per gli uomini di Sarri, momentaneamente al secondo posto a quota 48, noi dobbiamo fare il campionato pensando a noi stessi, ho sentito tantissime parole tra ieri sera e stamattina, gente che crede allo scudetto, gente che pensa che il Napoli per una sconfitta ora le perderà tutte, gente invece che giustamente dice con tutte le partite che doveva perdere la Lazio ha vinto proprio quella che non ci aspettavamo. Ragazzi, noi dobbiamo solamente parlare di noi stessi, pensare a noi stessi, il campionato e la sfida è su noi stessi, noi dobbiamo vincere tutte le partite, dobbiamo cercare di vincere tutte le partite, poi a bocce ferme a giugno vedremo dove siamo. La formazione è quella che vi ho detto ieri, c'è un'eccezione, Messias al posto di Calabria nei quattro a centrocampo. Quindi il nostro grande Magic Magnan, difesa a tre con Caluru avuto Mori e Chav, i quattro, Teo Hernandez, Tonali, Benanser e Messias e poi De Quinteler dietro Rebic e Giroud. Ragazzi, forza! Stasera voglio vedere grande prova, grande voglia, grande fame, grande concentrazione. Soprattutto voglio vedere, sfruttare di più le occasioni sotto porta, cercare di chiudere le partite, attenti al massimo e quelle poche palle che abbiamo dobbiamo subito trasformarle in rete. Quindi ragazzi, mi raccomando, difesa attenta, occhio, loro sono molto rapidi, molto veloci, bravi a fare le sovrapposizioni, noi dobbiamo essere altrettanto, come Chav vi insegna a tutti, mai far girare l'attaccante, sempre attaccati, sempre concentrati, avanti così. Teo, mi raccomando, in quella fascia devi di nuovo dare la dimostrazione di essere superiore e portare la superiorità numerica. Cdk, cazzo, stasera ti voglio decisivo. Cdk, stasera ti voglio decisivo, ti voglio con due palle così sotto, non mi interessa se segno o non segni, però voglio vedere veramente da parte tua una grande voglia e una grande fame. È ora di alzare questa sticella, dai Cdk, cazzo. Rebic, lo conosciamo, giocatore che è imprevedibile, può sempre cambiare le situazioni e le sorti di una gara. Giroud, mettiamo in pallone a Oliver, cerchiamo di servire il più possibile il nostro grande Olivier. Messias, ti voglio come il secondo tempo della gara con l'Atalanta e non come il primo, che si è stato molto assente e soprattutto inconsistente. Quindi ragazzi, mi raccomando, diamo tutto, andiamo a vincere sta cazzo di partita perché è fondamentale, Firenze è campo difficile, ma io ci credo. Dai Milan, cazzo, dai, andiamo a prenderci sta partita. È sempre, forza vecchio cuore rosso e nero. Ciao a tutti da Jerry.